Mister Basso Donofrio, più difficile del previsto questa gara contro la Gioiese, avete sbloccato subito la partita però loro hanno sempre mantenuto alto il ritmo per tutti i 90 minuti di gioco. Più difficile non lo so sinceramente perché abbiamo avuto delle informazioni su di loro e comunque non sapevo che sarebbero venuti qui a fare una partita rognosa, una partita attenta e quindi avremmo fatto fatica a trovare degli spazi. Siamo stati anche bravi a incanalarla bene perché nei primi 10-20 minuti eravamo 2-0 e poi ci siamo un attimino spenti e è una cosa che assolutamente non mi è piaciuta quindi credo abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Senti, questo 3-1 diciamo che alla fine ci sta tutto perché avete cercato il gol in tutte le maniere hai anche mosso qualcosa in mezzo al campo soprattutto per cercare di aumentare il ritmo offensivo è arrivato solo alla fine però diciamo che alla fine ci sta. Sì, poi alla fine l'abbiamo chiusa nel finale però ripeto non mi è piaciuta assolutamente la gestione del risultato sul 2-1 per noi dove potevamo trovare molti più spazi invece siamo stati frettolosi e non abbiamo avuto la giusta tranquillità per trovare gli spazi che invece c'erano e quindi dobbiamo lavorare molto perché ripeto abbiamo fatto un passo indietro. Tre vittorie consecutive, niente male? Sì, siamo contenti perché comunque il risultato dà morale, dà fiducia e c'era bisogno anche di continuità perché fare il risultato tutte le domeniche non è semplice e ci dà anche morale per andare a affrontare la partita molto difficile che andiamo a fare domenica contro l'Alto Casettano.